Ciao ragazzi, allora abbiamo vinto col Catanzaro 5 a 0, ma io non me lo sarei mai aspettato, nel senso va bene vincere ma 5 a 0, in casa loro che sono gasatissimi, non me lo aspettavo. Allora, quello che ho visto è che oggi, vabbè, due parole così per dire semplicemente che non ci sono parole per descrivere quello che ho visto, nel senso che ho visto un Parma che non ha fatto un gioco spettacolare, ma anzi come possesso ha subito in maniera atomica, del tipo 70-30 per il Catanzaro, roba del genere, però di una concretezza micidiale, quindi praticamente 5 sezioni da gol a 5 gol. E quindi di fronte a questo posso solo dire che sono contento e non sto neanche a descrivervi, diciamo, le fasi salienti, i minutaggi dei gol, vi posso solamente dire che tra il gol di Mann, i due gol di Benek, di cui uno su rigore, il gol di Partipilo, il secondo cioccolatino di Ciolac, boh, posso solamente dire che è stato bello. È stato bello, fra l'altro ho vissuto anche con le Mago Cronache, ho appena finito di fare la Mago Cronache di Parma, di Catanzaro Parma, in cui fra l'altro si sono anche iscritte altre persone al sito, al canale, e quindi nonostante un audio pessimo purtroppo, colpa mia, non ho avuto il tempo di settare, era un po' di tempo che non le facevo, e vabbè, comunque è andata bene lo stesso. Cosa ci lascia questa partita? Ci lascia sicuramente la sensazione di un Parma fortissimo in contropiede, cinico molto quando gioca in contropiede, un Parma che deve migliorare quando invece va contro al classico autobus, quindi magari in casa contro squadre poco forti che non si scoprono, però c'è poco da dire, c'è da dire che siamo prima in classifica e quindi questa cosa qua dobbiamo portarcela dietro, dobbiamo portarcela dietro quando affronteremo nella prossima partita in casa la Sampdoria, che Sampdoria che comunque è in difficoltà, è in difficoltà e quindi sarebbe bello riuscire, nonostante che siano zemellati, a essere spietati anche con loro e consolidare il nostro primato in classifica. Niente, io comunque la chiudo qui nel senso che, diciamo come ho detto nella Mago Cronaca, con Pecchia non ha sbagliato la formazione stavolta e l'avevo detto da subito e infatti ho detto che quella lì era una formazione che un giocatore in più, un giocatore in meno però era fatta bene, non c'era la cagata di far giocare a Nani dal primo minuto, non c'era la cagata di far giocare a Nani dal primo minuto e quindi è stata, fra l'altro non c'era neanche Osorio, quindi nonostante che Osorio forse avrebbe figurato bene anche lui comunque e niente, quindi io volevo solamente fare due chiacchiere con voi, ne approfitto per dirvi che ho fatto partire gli abbonamenti e quindi se volete continuare a godervi le partite con Pecchia, tra me e il Delo, offline, rigorosamente offline, dal divano di casa mia, se volete godervi queste cose bellissime, cioè nel senso c'è da sganasciarsi e della ridere, oltre che vedere del bel gioco, dovrete però pagare un caffè al Mago, al Delo, qui volete voi, un caffè al mese, quindi un euro e basta per poter usufruire anche dei match a PES, oltre che i contenuti gratuiti, i soliti del post partita che sono per tutti, il Mago Crona che è quello che l'è, e gli eventuali nuovi replay brevi. Fra l'altro i vantaggi, ve li ho già descritti, li trovate nel canale, il vantaggio ulteriore, oltre a giocare insieme con me a PES potrete farlo, cosa anche lì ci sarà da ridere, e alcuni omaggi che ci sono, appunto le foto, le tazze, ecco. Però, a parte questo, io vi consiglio almeno sinceramente il profilo da un euro, sicuramente, perché per almeno vedere i PES match che sono troppo belli, troppo genuini. Niente, allora, grandissima partita di tutti, grandissima partita ancora di Koulibaly, Zagaridis purtroppo bene fino all'ultimo, poi ha macchiato la gara spaccando un giocatore del Catanzaro, fra l'altro mi è dispiaciuto, sinceramente, perché era un fallo inutile, gratuito, su 4-0, quindi assolutamente un fallo antisportivo. Quindi, a parte la brutta cosa fatta da Zagaridis, per il resto, Cicci Zola non ha sbagliato un'uscita, il che, come quando Zorio non sbaglia la partita, è già un risultato, perché a queste la sua pecca sono le uscite, a volte, e per il resto, non sono contento per me, che ha segnato ancora, dopo si è esaltato troppo e quindi non ha dato la palla ai compagni, poteva farne fare altri ai compagni, però oggi c'è poco da criticare il Parma, cinico, niente da dire, 8-5 gol, cosa gli vuoi dire. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, abbonatevi se potete, offriteci un caffè, supportateci, ci risentiamo alla prossima occasione, che credo che sia con la Sampdoria in casa nostra, e un saluto dal mago e a presto, e mi raccomando, seguite anche i pronostici del Delo, che sta migliorando, e ci darà delle soddisfazioni, speriamo. Ciao a tutti, una buona serata, e godiamoci la vetta della classifica. Forza Parma, ciao ciao!